E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche questa mattina torna il nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato, con quello che è successo la notte, andremo a vedere quello che sta accadendo a Dogecoin perché è andato a fare delle performance straordinarie, cercheremo di capire se è il momento giusto di valutarlo oppure troppo tardi, insomma cercheremo di fare un ragionamento come sempre senza consigli di investimento finanziario, ma insomma qualche ragionamento che può esservi utile spero, detto ciò non perdiamo altro tempo, vi ricordo un like se questi contenuti sono di vostro interesse e di vostro gradimento e un'iscrizione al canale qualora foste nuovi, perché? Perché i contenuti che faccio sono prettamente time sensitive e se c'è bisogno di aggiornarvi on time in tempo su qualche situazione particolare è l'unico modo per ricevere la notifica, detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo, partiamo appunto dalla cosa focale un po' quello che è scaduto soprattutto anche nel weekend su Doge perché è intervenuto addirittura anche Charles Hoskinson che è il founder di Cardano il quale ha detto che secondo lui finalmente Doge può avere un caso d'uso, questo perché in realtà il driver che ha spinto Doge a fare queste performance è sicuramente quello di l'acquisizione da parte di Twitter di Elon Musk questo che cosa ha portato? Ha portato sicuramente molta speculazione su quello che è effettivamente Doge perché potenzialmente potrebbe essere integrato in Twitter o potrebbe avere anche un ruolo focale, centrale sul progetto Twitter di Elon Musk A questo punto è arrivato Charles Hoskinson che ha detto se effettivamente Elon decidesse di utilizzare Twitter insieme a Dogecoin allora automaticamente 200 milioni di utenti potrebbero avere questo use case e quindi poter avere la possibilità di utilizzarlo per qualcosa di concreto In realtà tutto questo ha creato un po' di scompiglio all'interno della community di Dogecoin proprio perché in realtà ancora in passato si ricordano di come lo stesso Charles avesse manifestato le sue verplessità E addirittura ho andato a proporre come Doge potrebbe essere una sidechain del progetto Cardano Anche lì è stato un po' preso un po' in giro per il fatto che Doge ha outperformato Cardano in Market Cap quindi di base dice ok tu vuoi che io sia una tua sidechain ma io valgo di più di tutta la tua blockchain che dovrebbe ospitare il mio progetto Quindi di base non ha senso insomma questo è un po' quello che è avvenuto un po' su Twitter così come su Twitter si è discusso molto anche di come effettivamente possa davvero essere un qualcosa di concreto Posso essere speculazione proprio questa questa situazione di Doge vi dico la mia sinceramente è molto pericoloso nel senso che la volatilità all'interno del trading è importante anzi è focale Un trader se non c'è volatilità non ha occasioni di guadagno ok sia rialzo che ribasso il concetto è sempre che comprare o comunque esporsi su titoli iper estesi come ad esempio Doge è molto pericoloso Può portare dei buoni profit assolutamente sì ma se se ripeto se non si prende la direzionalità giusta col time incorretto è chiaro che in una fase di iper estensione si può continuare a rialzo sì ma si può anche correggere estremamente in maniera veloce E questo porta chiaramente soprattutto se utilizzano le finanziarie a dei rischi elevati di liquidazione o di stop presi in 40 secondi Quindi va sempre trattato con le giuste piccole prendendolo con le pinze insomma perché anche shortare ragazzi titoli in FOMO così carichi è pericolosissimo perché non avete un'idea di dov'è il top ok su una fase di euforia Quindi potete un po' immaginarlo ma potete andare se siete dentro a mediare il rischio a uscire gradualmente ma se siete lì che state cercando il top per shortare veramente è tanto quanto longare in iper estensione quindi molto molto pericoloso Comunque sia qui si fanno vedere alcuni tweet dove effettivamente Elon Musk era stato eletto dalla community ma ancora anni fa perché parliamo del 2019 come il CEO di potenziale di Dogecoin Appunto lui commentava che Dogeman potrebbe essere la sua cripto preferita che è molto divertente insomma vedete come effettivamente qua vi riporta molti tweet dove Elon Musk si è sempre esposto in maniera molto favorevole Anche recentemente il 19 giugno 2022 dove appunto ha detto continuerò a supportare Dogecoin quindi è lì che si crea molto hype è lì che si crea molta speculazione Appuntamento però da non perdere tra due giorni e 12 ore è quello del FOMC ovvero il potenziale aumento dei tassi chiaramente li aumenteranno tassi di interesse della Fed Cosa si sospetta? Si sospettano i famosi 75 punti base che vediamo con una probabilità dell'81% mentre abbiamo i 50 punti base con una probabilità del 19% Quindi in realtà non è ancora scontato questo questo rialzo 75 il discorso è che si potrebbe andare a prezzare un rallentamento verso fine anno col prossimo FOMC del 14 di dicembre dove appunto vedete come il target primario rimane sempre un aumento di 75 ma in realtà c'è anche la possibilità di star nel range 425-450 Che potrebbe confermare un po' il rallentamento un po' il pivoting ok della Fed che va un po' a arrivare in obiettivo Staremo sicuramente a vedere perché stanno settimane importanti e ne parleremo meglio domani appunto per il meeting del 2 di novembre Detto questo andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore troviamo Chiliz che fa un più 14% Trust Wallet che fa un più 7% The Sandbox un più 7 bene settimanalmente anche The Sandbox Cosmos un più 6% Algorand un più 5% Terra Classica un più 4% poi nient'altro di particolare Tra i losers troviamo Shiba che fa un meno 11% Doge che fa un meno 14% ma guardate settimanalmente nonostante abbia fatto un meno 14% rimane positivo di un per 2% sulla settimana quindi un più 103% LidoDAO un meno 8% Clayton un meno 8% però vedete tutti quelli che sono titoli o comunque crypto che hanno corretto sono tutte positive settimanalmente quindi vi fa capire che può essere un leggero storno Beh io vi ho intanto messo qua già il grafico di Dogecoin che vedete essere molto esteso Sembrerebbe aver testato due volte la zona quasi dei 15 centesimi di dollaro poi è andato in una sorta di lateralità in questi due giorni Oggi è aperto positivamente staremo a vedere banalmente con un Fib visto che sono comunque movimenti molto estesi Potete proprio vedere dove abbiamo trovato supporto lo vedete perfettamente sullo 0 38 ok e 2 lo vedete proprio guardate qua ok lasciate perdere un po' di shadow perché c'è volatilità ma siamo proprio là E questo non mi fa pensare in questa fase a una potenziale top momentaneo ok potrebbe tranquillamente continuare la lateralità e provare un'altra aggressione a rialzo Staremo a vedere ovviamente non sono così i trading finanziari questa roba qua è iper estesa lo ripeto 100 volte quindi tranquillamente quello che può fare è anche questo Continuare così e tornare da dove è venuto con una BART ok però stiamo attenti perché siamo su 0 38 è diventato in questi due giorni un buon supporto ok lo vediamo anche meglio a livello orario Effettivamente va in concomitanza anche con la 50 oraria che è stata mantenuta molto bene ok questa è un po' l'analisi di base Su Bitcoin invece che ci interessa di più anche come benchmark siamo andati a leggere la correzione ma anche per lui vale la stessa cosa Siamo comunque con la 12 la 50 e la 26 spiegate rialzo abbiamo avuto il crocio lo vedete qui perfetto da 12 alla 50 che cosa ha portato come io ho detto Appunto un crocio di questo genere può portare continuazione infatti abbiamo avuto continuazione nella giornata successiva Noi abbiamo ritestato i 21 mila dollari abbondanti leggera correzione weekend ma ripeto weekend guardate anche i volumi sono stati molto bassi Quindi a parte DOGE ho questi progetti un po' più esotici passatemi in termine il resto del mercato ovviamente è stato un po' più flat Quindi stiamo a vedere anche oggi come andrà in che direzione andrà la cosa Ovvio siamo ancora un po' distanti da 12 che rimane sui 20.200 dollari Però insomma il mercato non sembra in questa fase voler essere particolarmente aggressivo vedremo movimento nella prossima giornata o meglio nelle prossime ore Chiaramente un attimo di attenzione su questi supporti qua di 20.200 se questi qua che abbiamo visto di 20.400 e 20.300 dovesse ottenere perché può essere delle zone interessanti Capitalizzazione sui 971 billion stazionaria e poi abbiamo l'indice del dollaro che è andato a recuperarsi a sua 50 Quindi ha messo un pochino di nuovo più in difficoltà soprattutto la parte di valute tradizionali insomma fiat Ma nient'altro direi da segnalare in questa fase Detto ciò fatemi sapere anche voi chiaramente cosa ne pensate qui sotto nei commenti Se siete esposti o meno cosa state facendo per quello che riguarda appunto anche DOGECOIN Io mi fermo intanto vi auguro a tutti una buona giornata Ciao ragazzi